Il presidente Vezzalini, Lucid, riprende il suo lavoro di proporre riflessioni sul mondo del lavoro imprenditoriale e anche di carattere sociale. Ho il primo appuntamento con il professor Tampieri e con Don Federico Pigoni, che è assistente anche dell'UCD Modena, proprio sul lavoro dal punto di vista biblico da una parte e delle riforme dall'altra. Sì, noi abbiamo voluto cominciare la nostra attività di quest'anno dibattendo questo tema dell'uomo e del lavoro, considerando che il lavoro è la parte essenziale della vita di tutti noi. Quindi, naturalmente, considerandolo sia dal punto di vista dell'importanza del lavoro, inteso quasi come un dono che deriva dal cielo, deriva dal creato, deriva dal fatto che l'uomo è l'unico essere vivente che in qualche modo è in grado di sviluppare la propria ragione d'essere attraverso il lavoro e questo crea benessere per lui, per la famiglia, per la comunità in generale. Quindi è un problema legato alla cosiddetta creazione del bene comune, anche secondo la dottrina sociale della Chiesa. L'altro aspetto è vedere invece questo criterio del lavoro, così come concepito attraverso una legislazione da parte delle autorità pubbliche, da parte della società stessa, che si dà delle regole per disciplinare in modo più efficace possibile la crescita del lavoro per tutti gli uomini in condizioni tali da agevolarne lo sviluppo. Ma lo sviluppo non dipende dalle leggi, dipende dalla capacità che ha l'impresa di sviluppare lavoro, che deve essere però disciplinato dalle legislazioni. Qui abbiamo sentito Tampieri che in qualche modo ci ha detto come, da una parte, le prime regole che in qualche modo il professor Marco Biagi aveva stabilito, soprattutto sulla validità di agevolare la contrattazione da parte delle imprese e dei lavoratori, da una parte l'ha portato però a dei dissiditali che hanno portato alla fine di Marco Biagi. Però la legislazione continua, faraginosa, difficile, però speriamo che questo porti comunque sempre a una maggiore efficienza e miglioramento di questo mondo del lavoro, che è fondamentale per l'uomo. Il legislatore è soltanto una parte del problema della salvaguardia dell'occupazione, bisognerebbe intervenire su diversi fronti, cioè quello della fiscale, quello sicuramente anche della certezza del diritto, delle situazioni giuridiche, della durata ragionevole del processo del lavoro, la stessa formulazione delle norme che a volte è caotica, faraginosa e su questo si dovrebbe intervenire. Le riforme negli ultimi 15 anni, dalla legge Biagi fino al famoso Jobs Act, sono andate in una certa direzione, almeno sulla carta, cioè quella della promozione del lavoro stabile, del lavoro dei giovani, che purtroppo non sempre ha avuto riscontro nella realtà pratica per problemi contingenti di tipo economico, di tipo sociale, di tipo sindacale. E quindi il legislatore ha una certa direzione, ma non sempre riesce a soddisfare i suoi obiettivi. Grazie a tutti!